Con l'arrivo dell'estate e in previsione di giornate di caldo torrido il Ministero ha attivato un sistema di sorveglianza delle ondate di calore e tra le città italiane monitorate c'è Campobasso. Prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute soprattutto delle persone più fragili è dunque l'obiettivo della pubblicazione sul portale del Ministero della Salute dei bollettini sulle ondate di calore in Italia. Bollettini che sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia del Sistema Sanitario della Regione Lazio nell'ambito del Sistema Operativo Nazionale di Previsione e Prevenzione. Vengono pubblicati come ogni anno da lunedì al venerdì a partire da metà maggio fino a metà settembre. Il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane e consente di individuare ogni giorno per ogni specifica area urbana le condizioni meteo, climatiche e a rischio per la salute soprattutto dei soggetti vulnerabili quali anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza. Tra le città monitorate dunque c'è anche Campobasso che spesso risulta tra i centri con temperature più alte così come in inverno tra quelle in cui fa più freddo. I bollettini sono consultabili anche attraverso l'app Caldo e Salute realizzata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio, ASL Roma 1. L'app è disponibile online per dispositivi Android su Play Google e per iOS su App Store. Dal portale del Ministero è possibile scaricare opuscoli relativi alle ondate di calore rivolti alla popolazione generale e agli operatori del settore, medici, personale delle strutture per gli anziani, personale che assiste gli anziani.